Tutto compiuto. Benissimo. Allora, sicurezza del carico. E' una stupenda di un po' di introduzione. Per il trasporto di cose mi sembra... Sì, questo l'hanno visto tutto. Questo non ci interessa perché stiamo facendo l'epatente C, per cui non ci interessa. Quindi, proseguiamo avanti. Ok. Bene. Allora, ritorniamo sul discorso dei veicoli, quindi patente C, la scelta dei veicoli che io devo fare per... Vediamo chi è arrivato. Buonasera. Ciao Simone. Tutto bene? Tutto a polso. Ok. Sto partendo adesso, quindi fino adesso ho fatto solo l'inizio e a mandare il limite a tutto. Quindi non guardo il limite. Allora, partiamo con questo lato qui, che riguarda il sequestro del carico, delle persone che ascoltate che non ci interessa, perché è la parte degli autobus. Non la facciamo in questo momento, perché noi facciamo solamente le patente C per adesso. Giusto? Giusto. Quindi, allora, cosa ci dice? A seconda della materia a trasportare, e di quale un garazzo sinistra, si sceglie i veicoli adatti. Quindi, se è trasporto liquidi, sceglierò una cisterna, se è trasporto rifuso, sceglierò un cassone aperto, o se sceglierò un portacontainer, o meglio, in seconda dell'attività di trasporto. Ricordiamoci che ci sono due categorie di veicoli. trasporto merci, che si dividono in autoarticolato, dove l'autoarticolato è quello composto da il mio trattore stradale, questo qui, più il semirimorchio. Quindi, trasporto intermodale, cosa serve? È meglio avere, per il trasporto intermodale, stazionamento del viaggio, il rimorchio interscambiabile, perché sgancio il rimorchio, ad esempio c'è un container, poi il passore c'è lì, carca la sua nave, io posso scaricare altre robe. Quindi, diciamo che l'autoarticolato, se è conveniente sganciare il rimorchio per lo scarico, per utilizzare il trattore in altri viaggio, quindi può essere utile per quello. Nell'eventualità, invece, si preferisce l'autotreno, se invece si circola spesso in città, e per i problemi di manovra, si deve sganciare il rimorchio, quindi in giro solamente con la mia matrice. Quindi, dipende un pochettino dall'utilizzo del trasporto che devo fare. Allora, la sistemazione del carico. Ricordiamoci che l'autista, o comunque il vettore che mi si voglia, è sempre responsabile sul carico. Quindi, anche se non è lui che deve eseguire il carico, dove, purtroppo, invece, ci sono comunque delle ditte che lo fanno fare l'autista, anche se non dovrebbe, solo che per l'autista... Tipo la mia. Ecco, te non dovresti... Tu lo fai te? Sì, io vado direttamente dal fornitore, poi mi porto sui bancali e me lo carico. Eh, non dovresti farlo, eh, solo che per i motivi di quieto vivere, di lavoro, perché poi ti dico se vuoi lavorare così, se no tanti saluti. Esatto, esatto. E comunque, vabbè, in questo caso qui hai, diciamo, l'opportunità di caricare te il carico come si deve, quindi non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda la sistemazione. Nell'eventualità, invece, che il carico non lo faccia un'altra persona, con un muletto o meno, io devo assistere al carico per effettivamente controllare che il carico sia effettuato a regola d'altri. Sponiamo un attimo, quindi, che patente è? Patente C. Allora, il carico deve essere sistemato in modo tale da evitare la caduta e la dispersione dello stesso, poi saprai meglio anche te. Primo lo puoi insegnare a te, Simone, come va caricato. Non diminuire la visibilità al conducente, non impedire gli movimenti, non compromettere la stabilità del veicolo, non mascherare i dispositivi del veicolo, frecce, luce, eccetera, e poi non supporare i limiti di sacco e di massa. Soprattutto i limiti di massa. Crediamoci che per quanto riguarda la massa ci avviamo una tolleranza del 5% sulla massa di comprensione del carico. Io con l'ADR invece ce l'ho a zero. Ah, tu l'ADR sei a zero, completamente a zero. Non puoi assolutamente, l'ADR non comporta delle... Io infatti sono sempre un po' più scarico. Eh, così conviene. Poi, oltre a dover essere compatibile con la portata e il volume utile del veicolo, non deve compromettere la stabilità e per questo motivo deve essere fissato adeguatamente. Quindi deve essere ben legato o con catene o con funi. Teniamo conto che adesso qui in Italia non lo fanno ancora, ma la nuova normativa europea prevede anche qui da parte della polizia dei controlli sul fissaggio del carico. Quindi hanno delle tabelle. In base al carico sanno che io ho bisogno di 5 funi, 6 funi. Se non ho messo 4, mi danno la multa. Le funi, oltretutto, sono omologate, quindi hanno una certa validità. Sull'etichetta c'è scritto. Non sono eterne. Cioè, non scadono come la mozzarella dopo 4 giorni. Però, anche lì, magari sono due anni, adesso non lo so. Non devono essere annodate, non devono essere tagliate, per cui deve essere integra. Adesso, ripeto, in Germania stanno già effettuando dei controlli. Sono dei progredi che vanno a lavorare in Germania che, soprattutto il carico, controllano anche il fissaggio. Perché ci sono stati troppi incidenti di gente che era persa. Quindi, infatti, dal 20 maggio 2018, sui veicoli immersi superiore a 3,5 funerate, il carico deve essere fissato nel rispetto della norma UNI-EN 12195-1, che è questo qua, per calcolare. Questa norma cosa fa? Calcolo delle forze di ancoraggio minimo. Quindi, poi c'è legge sul fissaggio del carico. Esiste già in Germania, Gran Bretagna e Svizzera, quindi l'Italia non è stata ancora recepita. Però sarà questione di qualche tempo, verrà recepita anche qua. Unione Europea, tiene il conto della normativa, questa qui, nella direttiva 2014-47 dell'Unione Europea. In Italia ha recepito la direttiva 2014-47 dell'Unione Europea, con decreto ministeriale 215-19 maggio 2017. La norma UNI-EN 12195 migliora in Italia dal 20 maggio 2018, solo che, grazie a Dio, la polizia, perché è chiaro, per fare una sanzione, deve essere la polizia che deve sapere cosa sanzionarlo. Per cui, per adesso, non ho ancora sentito nessuno che ha ricevuto... Vabbè, a meno che il carico fosse completamente... Vabbè, se supera il peso, te lo fanno scaricare. Ma forse disordinato, quindi ci fosse effettivamente pericolo che il carico si prendesse, allora ti fermi. Ma non vanno ancora a controllare effettivamente se hai messo 5 funi piuttosto che 4, o il tipo di funi, o come l'ancoraggio. Per adesso. Ok? Per adesso, ok. Poi, cosa dobbiamo controllare, allora? Mettiamoci qua. In pratica, occorre contrastare con dispositivi e tecniche adeguate le forze del carico per sviluppare su strada. Quindi, teniamo conto che tutto quello che è dentro un veicolo ha la stessa forza e la stessa velocità del veicolo stesso. Nel senso che anche sull'autobus, ad esempio, i passeggeri che sono in piedi, se l'autista frena di colpo, i passeggeri si spostano con la stessa velocità che andava l'autobus addosso al finestrino, dovuti alla forza di inerzia che ci spinge in avanti. Ok? Di conseguenza, anche tutte le merci, se non sono ben legate, si spostano avanti e indietro, sobbalsi, quindi in alto o laterali, nelle curve. Quindi, le forze in avanti sono il 80% del peso del carico. Quindi, la forza peso che viene, qualsiasi cosa che mi viene addosso, mi viene addosso alla cabina e mi schiaccia. Forza indietro in accelerazione, 50% del carico. Forza laterali a destra e a sinistra, 50% del carico. Poi, la forza di stacco e di relazioni, soprattutto quando sono le dosse artificiali, che eventualmente si possono sbagliare. Poi, il carico deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la disposizione del carico stesso. La cosa migliore, che non so se l'hai già visti, sono i tappetini, proprio i tappetini che servono per il carico. Cosa sono cari? Ma è come se fosse... No, ho capito. No, che il tappetino non l'ho mai visto. Ah, va bene, perché te non carichi... come carichi? Scuso? Io ho le tanniche e le carichi. Ah, beh, le tanniche... Beh, ma comunque le blocchi in qualche modo. Sì, allora, praticamente se ne metti 10 in fila, stanno incastrate tra di loro e non si muovono. Sì, sono fatte a misura standard per cui stanno. Se no, quando è sfuso, soprattutto cassa o cosa che è sfuso, i tappetini sono molto tappetini che servono per evitare l'attrito, aumenta l'attrito, quindi non si muovono proprio più. Poi, ci sono dispositivi, come alcuni... A seconda della merce che trasporto, devo sapere come agganciare. È stato studiato tutto, quindi non è che mi invento niente. Ad esempio, i rotoli di carri d'acciaio ci sono alcuni che lo tengano. I ganci, poi ci sono, vabbè, tutti i ganci che sono gli occhieri con i ganci col cricchetto. Quindi il cricchetto che va anche qui, il tesor, non troppo, e comunque devo mettere protezione sul carico, perché se stringo troppo rischio di andare a rovinare, ad esempio il cricchetto di carta. Le cisterne hanno il loro tipo di carico. Ecco, in questo caso qui, che sono cose mobili, il tappetino sarebbe ben utile piuttosto che... Perché questo qui, come legato, io avevo tanta paura, perché con quattro cinghie in croce così non sarei tanto soddisfatto. Sarei disegnificato. Perché qua, vabbè, comunque. Finché non succeda niente, piglio la cura un po' veloce, ho detto, non è che mi sembra delle funi tanto nuove queste. Vabbè, comunque. No, quello è tra un po' andato. No, infatti. Allora, cosa dobbiamo considerare? Il baricentro di un corpo è il punto di equilibrio, tra i pesi delle varie parti che lo compongono, infatti, anche detto, centro di realtà. Centro di realtà, il baricentro sarebbe quello che io ipoteticamente sollevassi il mio camion con un cavo d'acciaio, mi rimane in equilibrio, non vanno avanti e indietro. Ogni merce che io carico va sul centro di gravità. Io devo fare in modo che quando carico il mio veicolo, con tutte quelle che sono le merci, vado a stabilire un baricentro non troppo in avanti, ma neanche troppo in alto, perché più salgo in alto e più ho la possibilità di in curva sbandare e piegarmi in curva. Quindi devo cercare di distribuire in maniera equa il carico su tutto il cassone. Adesso, vabbè, ci sono sei fusti, quello ci sta e non puoi, ma forse c'è un carico così sfuso, con delle dimensioni diverse, fare in modo che quelli più pesanti comunque gravino sopra l'asse e quindi è quello che sollege maggiormente. Non andare troppo in alto in modo, tenendo conto che comunque il baricentro del mio autocarro da solo è già spostato in avanti perché c'è il motore tutto il resto e quindi fare in modo eventualmente di distribuirlo maggiormente. Non metterlo solamente nella parte posteriore, perché è chiaro che nella parte posteriore vado a inficciare e si alza davanti. Quindi cercare di distribuire in maniera equa. Poi, quello che dicevo, più alto il centro di gravità, più il carico tendrà a libertarsi. Più mi alzo quel baricentro e più è facile in curva che mi ribalti. Soprattutto quei veicoli, cisterna ad esempio, che magari sono mezzo piede, mezzo vuoto, le bettoniere, i prodotti si muovono anche. Quindi più il mio carico è alto, quando è che si rovesce la bettoniera? Quando entra in una rotonda. Quando entra magari in una curva, in una corsia di decelerazione che deve diminuire la velocità e arriva troppo veloce, e magari in curva. Allora lì di corpo si trova in difficoltà e c'è il rischio per ribalti. Quindi il baricentro cambia secondo il numero del posizionamento dei cori, abbiamo visto qua, può cambiare chiaramente secondo il numero dei cori, come sono posizionati, e del peso stesso. Poi, cosa dobbiamo fare attenzione? All'indicazione che ci sono sul coro stesso. Quindi, è chiaro, se c'è scritto fragile, come questo qui, non ci devo mettere il simbolo dei bicchieri, non ci devo mettere sopra della roba. Va bene, poi, per evitare lo spostamento del carico bisogna guidare in maniera fluida, quindi non spossone, non partenze brusche, frenate, se posso, non frenate eccessive, ma per esempio in maniera graduale. Poi, se accade di frenare bruscamente, si consiglia di controllare lo stato del carico. Quindi, dovresti fare una frenata brusca, poi, prima di ripartire, controllo che non si sia mocchiato tutto, che quindi, come legato, non si sia mosso, non mi trovo la roba tutta ribaltata in cabina. Poi, il carico, o addirittura il veicolo, rischiano di ribaltarsi se il baricente è troppo alto e lo spostato verso l'esterno. Specialmente, se sono presenti molte forze laterali di disturbo. Quindi, un carico, come in questo caso qui, vedi che è fusti. Se è troppo in alto e non è legato bene, in curva, tende ad andare sull'esterno. Oppure, anche la mia cisterna, sul miadotto, con il vento laterale, quando abbiamo una superficie vera e ampia, può variare quello che è il mio baricento, quindi potrebbe anche facilitarmi nello sbandamento. Quando c'è vento forte, guarda che arriva anche a 120-130 km tonalini. Poi? Sì, infatti, quando scendo dalla Val d'Aosta, si sente. Eh, si sente, sì, sì, sì. Stabilità delle cisterne. Nel guidare una cisterna, è quello di tener conto del fenomeno dello sbattimento longitudinale e traversale, soprattutto se la mia cisterna è mezza vuota o mezza piena, come se si voglia. E quindi il liquido che c'è, sbatte. Se è tutta piena, no. Devo considerare il peso, ma però non c'è più lo sbattimento. Perché in... No, funziona, in accelerazione cosa succede? Il mio liquido se mi va in vieta. In frenata tendo a spostarsi in avanti. E quindi mi spingo, sicuramente. Ok. Poi, il problema del baricentro è maggiore nei liquidi perché nello spostarsi il liquido modifica continuamente il baricentro della cisterna. Te va bene che sono tanti fusti e poi sono tutti pieni. No, Simone? Sì. Quindi non senti tanto... Sì, hanno poco di vuoto. Sì, non senti tanto lo sbattimento. E vabbè, qui vediamo. Ma quando freni un po' lo senti. Vabbè, in quando freni sì, lo senti. Sì, sì, dovete aver preso. Una cisterna mezza vuota è liquido, vedete che effetto che fa. Poi più liquido è denso, quindi in quanto è l'acqua magari trasporta del liquido più denso, il latte che è più denso, olio che è più denso, il movimento è molto più lento e quindi lo ribaltamento è molto più accentuato. Idem, a sinistra è la stessa cosa, sinistra-destra, curva a destra chiaramente si sposta a sinistra e curva a sinistra tendrà a spostarsi sulla destra. In accelerazione abbiamo visto. quindi per limitare dall'effetto le cisterne di noi hanno più scomparti separati tra di loro per metodi diaframmi pareti aperti essi non impediscono il passaggio del liquido e non lo scomporta l'altro ma lo rendono più lento e più contenuto. Quindi sono questi diaframmi aperti e quindi il liquido non va tutto di corpo di gamma e è vincolato da questo diamante qua. Diaframma chiuso quando trasporto l'altro materiale perché magari faccio benzina e dilaccio gasolio allora in quel caso lì deve essere chiuso perché non deve miscelarsi. Diaframma aperta invece porto la stessa liquido e ho la possibilità appunto di avere minore sbattimento in accelerazione di un'acqua. Poi varia anche quello che è la forma perché se fate caso sono abbastanza non sono rotonde rotonde sono quelle che trasportano il gas perché tanto il gas è aeriforme quindi non c'è sbattimento. Quelli che trasportano i liquidi se avete fatto il caso sono abbastanza elittiche sono un po' schiacciati su alto e basso proprio per ridurre quello che è il fenomeno dello sbattimento sul rotondo è maggiore. Poi il carico sforgente è ammesso quindi sappiamo che possiamo sforgere per il 30% non su ADR ADR non può sforgere niente invece sui altri veicoli tanto le tanniche non sforgono vabbè le tanniche non sforgono no allora entro i limiti di sagoma generali quindi sappiamo che i limiti di sagoma per quanto riguarda la lunghezza dei veicoli sono 12 metri quindi io non devo sforgere se il mio veicolo è già 12 metri non posso sforgere niente se no diventa un trasporto eccezionale se invece è lungo ad esempio 7 metri posso sforgere il 30% della lunghezza il mio veicolo ok che sarebbe 3 decimi quindi ma se ho 12 metri non puoi più sforgere 12 metri sporgo solo davanti come in figure 12 metri ma neanche davanti eh ok no così no no volevo chiedere solo se sono davanti sì 12 metri niente non è segnale massimo se invece sei 7 metri 7 per 3 21 puoi sforgere 2 metri a 10 se sei 10 metri non puoi fare il 30% perché se no arriveresti a 13 metri quindi se sei 10 metri è massimo puoi sforgere 2 metri ok ah quando porto chiaramente un carico sforgente lo devo segnalare con il pannello degli scarici sforgenti questo qua che è 40x40 di materiale ricrettente se sono il carico mi viene forse c'è la sguardo o no allora se il carico è solamente centrale ne metto uno che sporge qua così se invece è su tutta la superficie ne metterò di due di cartelli poi lateralmente posso sporgere massimo 30 centimetri ma non dalla sagola del mio veicolo ma dalle luci di posizione ok però se sono già 2 metri e 55 che è la larghezza massima consentita non spolgo niente lateralmente va bene che se sono 1 metro e 50 che spolgo 30 centimetri che poi 1 metro e 50 qua saranno 25 centimetri per dare luce di posizione 30 centimetri sono un po' meno quindi saranno 20 e 20 e 40 1 metro 50 sì arriviamo a 1 metro 90 sì davanti invece non posso spolgere niente quindi se c'ho delle tavole lunghe o li metto dietro e spolgo nella parte posteriore che posso o se no non li posso caricare quindi queste qua le avrei messe chiaramente più in basso e nella parte posteriore in modo che questa metro quanto è di distanza spolgesse dietro bisogna essere questo o giungo 12 metri però va bene poi il conducente responsabile della sistemazione del carico deve fare riferimento a restituzione di trasporto quando presenti quindi dovrebbero darmi la restituzione di trasporto sulla DR e me le danno sempre più grado per la sicurezza sì sì io c'è tutto il foglio stampato che se no non le piace esatto e devi fare attenzione devi sempre fartelo dare a parte che te lo danno quindi un carico sistemato male può influire sulla stabilità di marcia e sbilanciare il veicolo causare caduta e danneggiamento delle merce causare frenate squilibrate pericolose danneggiare gli assi danneggiare freni e sospensioni ammortizzatori traumatici e può produrre anche ribaltamento o incidenti attenzione sistemare male carico sui veicoli sono vabbè non è tanto la multa 87 euro ritiro della patente carta di circolazione e tre punti in meno finché non ho sistemato il carico in maniera corretta quindi se sono con un camion che magari non è corretto bene mi fanno stare devo sistemare il mio carico quindi devo chiamare una gru magari da solo non ce la faccio quindi non è che spendo solo 87 euro 87 euro e la multa più tutto quello che è la sistemazione del carico poi il sovraccarico si ha che ti ritirano la patente solo finché non lo metti a posto cioè non mi fanno andare via finché non lo metto a posto me la ridanno sì 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 ti pagherà multa e il sovraccarico si ha quando il carico supera per massa il valore di portata del veicolo rilevabile della carta di circolazione quindi la massa conversiva più non carico ripeto posso uscire del 5% infatti il sovraccarico dannoso è pericoloso per gli age è consentita una toleranza del 5% in più non te che fai lo sai l'adier quindi quando il carico assieme ai veicoli io no più niente del 5% il valore della massa complessiva pieno carico indicato sulla carta di circolazione sanzioni tutti quanti al caricatore al conducente al proprietario e al committente quindi la legge va a prendere tutti per me ci pericolano infatti non c'è nessuna tolleranza di sovraccarico il caso il sovraccarico vabbè fate questo mamma mia cosa comporta un maggior inquinamento perché consumo ma consumo di più perché l'autoveicolo ha un carico maggiore il motore lavora di più e quindi più a fondo e quindi consumo aggiornamento guasti strutturali perché chiaro il mio veicolo è abilitato per buttare 20 tonnellate ad esempio se nel carico c'è 30 sorregge sì però le sospensioni lavorano male i freni lavorano male il motore il motore fa più fatica poi insabilità nella marcia con 10 tonnellate in più lo sento quindi è tutto sbilanciato sento che è come guidare chiaramente su un budino allora provvedimenti sono tanto più severi quanto maggiori il sovraccarico sono cioè proporzionale la gravità dell'infrazione quindi eccedenza di massa fino a una tonnellata o al 10% quindi una tonnellata in più o al 10% mi tolgono solo un punto e 42 euro per l'assunzione poi di massa due tonnellate o fino al 20% sono già due punti 87 euro di massa eccedenza di massa fino a tre tonnellate o al 30% sono 173 euro e tre punti in meno poi eccedenza di massa superiore a tre tonnellate o al 30% sono 4 punti e 430 euro quindi la sanzione è senz'altro più alta poi decodazione dei punti e anche qui c'è oltretutto anche la sospensione della patente minimo per un mese oltre quello che è la multa la decodazione dei punti e la sospensione della patente allora le operazioni di carico e scarico e merci sono di nome effettuate dal caricatore o dal mittente e o del senatario qui te li deve fare per invece anche lo scarico sì anche lo scarico perché consegna cioè quindi le tani che le prendiamo e le portiamo direttamente noi dove le devono stoccare allora l'ammittente e o del senatario il conducente deve però controllare che la sistemazione del carico sia corretta manovrando eventualmente le attrezzature gru sponde montacarico eccetera presente sul proprio veicolo vabbè se c'è la gru è chiaro che devi essere te quindi cosa deve fare il caricatore ancorare le merci con funi cricchetti e quant'altro accettare i schermi non si usino tra di loro quindi se ci sono più i merci mettere in mezzo mettere dei tipo i paleri come si chiama il pooling board quella roba lì oppure essere legata rispettare indicazioni poste sul core quindi quello che è alto e fragile coprire i carichi alla rinfusa quindi quando porto sabbia cosa per evitare che si risperda rispettare i pesi dei lotti in caso di carichi sovrapposti quindi non mettere la roba più pesante sopra sotto meno pesante poi in viaggio ogni tanto fermarsi per verificare la tenuta del carico e guidare senza brusche manobre poi comandare personalmente gli eventuali dispositivi di carichi per esempio la gru sì certo la gru che c'è sul camion è responsabile dell'autista quindi non la deve dare a terza persona per motivi di sicurezza magari non la sanno usare e si fanno del male poi in caso di sovraccarico chiedere di scaricare l'incidenza quindi quando te lo caricano sopra se te ne accorgi dovresti dire che tu non parti poi rifiutare di caricare i cori difettosi o chiaramente pericolosi se sono danneggiati se vediamo che è fragile è rotto non lo devo caricare perché sennò poi sono io responsabile e magari non me lo ritirano quindi lo devo pagare io tenendo conto degli ordini di consegno nei singoli cavoli è chiaro che la merce che consegno per ultima la devo mettere per prima e viceversa mi terrò sempre a parte va bene che si possono anche scaricare lateralmente cioè sia per lateralmente però se non c'è la possibilità che un cassone è chiuso la sistemazione deve essere fatta in base allo scarico quando va fatto la consegna poi se si utilizza la gru montata sul veicolo prima di iniziare l'operazione si può essere bloccato il veicolo con i piedi test o colpici stabilizzatori è importantissimo sapere anche il terreno dove io vado perché a seconda se è un terreno franoso come questo qui che io carico 20 tonnellate qua anche se mi sembra che sia in piano rischio di cadere quindi se sottofondo è buono il rapporto è uno a uno cioè questa altezza qua è uguale a questa qui uno a e quindi la distanza dalla base alla lunghia della scarpata orca dalla base alla lunghia della scarpata deve essere la stessa altezza dalla base alla punta della scarpata in caso dubbia a 2 a 1 e dobbiamo fare attenzione perché se a è più lungo soprattutto quando sbraccio c'è il rischio di finire giù della scarpata ok quindi fare attenzione soprattutto quando si caricano del collo così lunghi poi se si carica il veicolo caricato con pari pesanti su doppia fila e viene scaricato in alternative uno o due l'altro per non sbilanciare quindi scaricare alternativamente in modo che non sbilanci il carico stesso troppo in avanti troppo indietro poi quando si scarica un cassone ribaltabile questo è pericolosissimo perché c'è il rischio di ribaltare perché lo stelo che alza qui soprattutto se il carico è bagnato bagnato e quindi non viene giù rimane attaccato bisogna essere sempre in due quando si effettuano questi scarichi con la sabbia uno dietro che controlla effettivamente che la sabbia per essere argiliosa ad esempio non scende rimane attaccata lì e a un certo punto questo continua a salire e poi si spezza il pistone quasi o conviene salire piano piano e dare dei colpetti dare dei colpetti in modo che si stacchi quindi quando si carica un cassone ribaltabile pieno di sabbia un materiale simile viene fatto con molta grandolità e attenzione facendosi guidare da persone a terra vabbè poi per la monumentazione il carico e scarico di merci o macchinari è sempre opportuno indossare alcuni mezzi di protezione come guanti e scarpe rinforzate te ce le hai belle scarpe penso di sì ah beh sì le scarpe perché oltre a guidare io faccio cioè lavoro anche faccio proprio impianti quindi sì ah beh per forza quindi guanti beh il casco effettivamente il casco serve se ci sono carichi che cadono dall'alto il cantiere il casco serve sì io nel dubbio me lo porto sempre dietro che se arriva mai un controllo almeno non mi rompono le scatole ah beh sì sì gli occhiari potrebbero serviti per il gas gli acidi che producono il gas che producono eventualmente poi per quanto riguarda l'alto non ce ne so da niente non ci interessano vediamo il crash test questo è per l'inno il touring club svizzero ha condotto insieme al dynamic test center e altri partner un crash test tra un autobus e un camion nell'autobus sono presenti 13 passeggeri simulati dai manichini seduti a coppie sui sedili quasi tutti hanno le cinture addominali allacciate ci sono anche due bambini disposti sui sedili nella parte posteriore del veicolo Anton Keller responsabile TCS ci dice che dal 2005 tutti i passeggeri dopo aver preso posto devono allacciarsi le cinture questo perché attualmente circa il 70% degli autobus dispone di cinture di sicurezza ma cosa dicono le statistiche relative agli incidenti con autobus dal 1992 si segnalano ogni anno circa 250 incidenti ma la cosa positiva è che gli incidenti gravi sono tendenzialmente in diminuzione ed è merito tra le altre cose di un buon impegno verso la sicurezza dei passeggeri in questo crash test l'autobus si scontra con il camion fermo a 63 km all'ora a solo 65 cm dai suoi 13 passeggeri l'impatto della forte collisione è devastante i passeggeri che non hanno le cinture allacciate vengono scaraventati nella direzione dell'urto e su di essi si scaricano forze molto elevate anche i passeggeri con le cinture allacciate rischiano di rimanere feriti ad esempio sedendosi di fronte a quelli senza cintura l'altro risultato del test è che le forze esercitate sui corpi sono uguali dappertutto e non dipendono dalla posizione occupata dai passeggeri il pericolo è quindi distribuito equamente la conclusione del test è quindi che anche sugli autobus devono essere indossate le cinture se presenti nei casi peggiori infatti un incidente può essere fatale per le persone che non sono assicurate ai sistemi di ritenuta inoltre non importa se una persona si è seduta sul sedile anteriore posteriore o al centro ciò che è importante è che abbia le cinture di sicurezza allacciate solo in questo modo si è ben protetti va bene giusto così sì giusto per vedere allora esenzione della cintura di sicurezza la regge prevede esenzioni per le categorie di persone rappresentate nell'immagine a fianco che adesso vedremo che sono le forze armate vigili del fuoco donna in gravitanza e altri pazienti con certificato medico istruttori scuola guida e addetti ai trasporti dei rifiuti addetti ai trasporti dei rifiuti solamente quando sono lì che caricano l'immondizia quindi fanno 10 metri si fermano scendono scaricano il bidone scaricano il bidone ma salgono sul camion altri 10 metri in quel caso lì la cintura di sicurezza sono esenti ma quando ho caricato tutto che devo andare poi a scaricarlo dove vanno dove c'è il centro raccolta in quel caso lì che è un viaggio lungo devono mettere la cintura di sicurezza quindi questi sono i personaggi che sono esenti polizia piuttosto che pompieri vigili del fuoco donna in stato di gravidanza particolari esenzioni dovute a malattie o congenite o malformazioni e istruttori di scuola guida e trasporto rifluti poi il conducente questo è sempre per quanto riguarda l'autobus il castello di scuola bambini sull'autobus non c'è niente ok abbiamo finito questo capitolo qua e quindi io direi per stasera che ne dici se ci fermiamo qua ah ok va bene va bene tanto anche domani seguirò da casa perché c'è mia nonna che fa la terza del vaccino e allora rimanevo a casa che non si sa va bene va bene poi noi in sede ci vediamo mercoledì va bene va bene magari facciamo così domani vado ancora un pochettino avanti e vi devo mandare un po' di quiz e poi mercoledì facciamo un po' di quiz di questi argomenti qua se sei d'accordo ok d'accordo va bene va benissimo ok ti ringrazio di nulla buona serata buona serata anche a te ciao